Quando un cliente, oltre ad aver prenotato, ha pagato anche il parcheggio, noi vediamo il simbolo dell'AP e avrà uno scontrino, gli stamperemo uno scontrino da mettere sull'automobile come questo. Il parcheggiatore lo inquadrerà con il suo smartphone e vediamo che il parcheggiatore saprà, questa persona si chiama Gino Lambrusco, ha ancora 6 giorni di abbonamento, una prenotazione dal 30 marzo al 4 aprile, vediamo, ha anche targa, questa la inserisce chiaramente in fase di prenotazione, la inseriamo noi, Fiat 500X, la targa, sono informazioni aggiuntive che possiamo mettere. Se per esempio invece prendiamo quest'altro cliente che praticamente ha una prenotazione che non è più, eccola qua, questa era una prenotazione che finiva ieri e in questo caso è proprio questo Aurelio Ferrante che vediamo, non c'è una prenotazione per oggi perché se vediamo sul gestionale Ferrante Aurelio vediamo che aveva questa prenotazione dal 22 al 28.